Scopri le sorprese di Natale di oggi che il cast di Violetta ti dedica in esclusiva. Ogni giorno una sorpresa per delle vacanze indimenticabili. Scoprite la sorpresa di oggi. Jerry, ecco qua i biglietti per oggi, perché non ce ne sono altri. Va bene, grazie. Conosci i cannibali vegetariani? In realtà il nome non è che mi dice molto. No, sono molto bravi, li ho sentiti. Sul serio? Sì, però, però, beh, allora dovrò chiedere a un'amica se vuole venire con me. Grazie per i biglietti. Prego. Ok, ci vediamo. Jerry. Sì? Ti accompagno. Sul serio? Beh, dici che sono bravi, andiamo. Perfetto, sì, mi chiami tu allora. Va bene, ti chiamo. Ok. D'accordo. Grazie, ciao. Ciao. Segui la programmazione di Disney Channel per scoprire le altre sorprese di Violetta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.